Io sono Carlo Mea, ora sono più di 15 anni che insegno il metodo De Rose e che faccio ricerche riguardo alla visualizzazione, che è uno strumento potentissimo per crescere dentro e trasformarci in tutte le aree e anche per raggiungere i nostri obiettivi nella vita. La visualizzazione è il potere che ogni essere umano ha di usare il potere dei propri pensieri per trasformarsi internamente sviluppando le sue capacità e migliorandosi a livello emotivo e a livello mentale per salire ad un livello superiore ed avere una marcia in più per la vita. Inoltre con la visualizzazione noi riusciamo anche ad intervenire nel corso degli avvenimenti della vita portando la nostra esistenza ad uno stato di maggiore felicità e realizzazione personale. Come esempi pratici sulla visualizzazione potrei adesso raccontarne centinaia. La visualizzazione può essere usata basicamente in due modi distinti. Uno è per la crescita personale. Per esempio immaginiamo una persona che voglia acquisire la capacità di diventare un bravo speaker, di parlare in pubblico in maniera eccellente. La persona usa il proprio potere dei pensieri, cioè si immagina parlando in pubblico in maniera eccellente con una capacità oratoria straordinaria e con la giusta tecnica può acquisire quella capacità in un strettissimo spazio di tempo. La visualizzazione può essere usata per qualsiasi tipo di trasformazione personale e nella mia opinione la visualizzazione sarà sempre lo strumento più potente per acquisire capacità e per la crescita personale. L'altro modo in cui la visualizzazione può essere usata è per intervenire negli avvenimenti della vita perché la visualizzazione ci consente non solo di trasformarci dentro ma anche di trasformare ciò che ci accade al di fuori. Ogni volta che tu pensi o immagini qualcosa tu aumenti la probabilità che quell'avvenimento accada nella tua vita e con la giusta persistenza e con il giusto metodo tu puoi portare la tua vita nella direzione che desideri. La visualizzazione viene usata da migliaia d'anni e io in questi ultimi 15 anni l'ho sviluppata e l'ho insegnata a tantissime persone che hanno raggiunto i loro obiettivi nella vita. Io insegno ad atleti, ad attori, a studenti, imprenditori e molte altre persone a raggiungere ciò che vogliono attraverso la visualizzazione ed altri strumenti. Allora per esempio ho tra i miei allevi un pilota dalla Lamborghini in cui lui si immagina con una performance straordinaria, perfetta, mentre lui gareggia e infatti poi quando arriva la gara lui con una concentrazione impeccabile e una perfetta padronanza delle sue emozioni lui riesce a padroneggiare la sua prestazione esattamente come lui l'ha visualizzata prima. E la cosa più sorprendente che lui sia accorto è che anche gli eventi esterni a se stesso succedevano esattamente come lui li ha visualizzati. Ho visto con la visualizzazione centinaia di persone che si sono immaginate facendo una determinata prestazione, sia un esame, un colloquio, una riunione o una gara sportiva, con la massima prestazione possibile. Le persone si visualizzano rendendo al massimo in quell'avvenimento specifico e poi si accorgono che quando arriva il momento giusto hanno un comportamento, una performance esattamente come l'hanno visualizzata prima. La concentrazione e il rilassamento aiutano non solo a rendere le visualizzazioni più efficaci, ma ci aiutano anche ad avere una prestazione migliore nei momenti importanti. Perché se la persona quando deve fare la sua gara, il suo esame, il suo colloquio, la riunione, quando deve parlare in pubblico la persona sa mantenere una concentrazione imperturbabile, ha una buona padronanza emotiva, la persona riesce a rendere al massimo del suo potenziale nei momenti importanti. Succede molto spesso che la persona è anche preparata, però nel momento giusto si crea l'autosabotaggio e le proprie emozioni, l'adrenalina in eccesso, le emozioni non gestite rendono la prestazione più bassa. Allora è fondamentale non solo visualizzarsi a rendere al massimo nei momenti importanti, ma anche allenarsi a livello mentale per acquisire quella concentrazione perfetta e anche a livello emotivo, in modo che le proprie emozioni possano spronare la persona a fare ancora di meglio invece di abbassare il suo potenziale. Quello che rende le visualizzazioni veramente potenti e efficaci è farle in maniera emotiva, cioè vivere nella propria mente la realtà che si vuole vivere nel futuro, cioè immaginare una determinata scena, ma non solo con delle immagini, con i cinque sensi, renderlo multisensoriale ed emotivo e visualizzarlo come se la persona già lo vivesse in quel momento. Grazie a tutti.